Salve a tutti voi e ben ritrovati. In questa puntata parliamo di come lavorare in sicurezza sui tetti evitando le cadute per sfondamento del tetto di Ethernet, cioè dei tetti non portanti, oppure per caduta nei lucernai. Alle mie spalle vedete un tetto con tanti lucernai, vedete che non sono protetti, quindi se un lavoratore sbadatamente fa un passo indietro può precipitare all'interno del tetto. Anche recentemente parecchi sono gli incidenti accaduti per questo. Vedremo quindi insieme una serie di interviste e di documentari didattici su questo punto. Era una mattina come tante, scherzavamo. L'ultima cosa che gli ho detto prima che salisse è stata proprio fai attenzione al lucernaio. Lo sapeva che era lì. Lavoravamo davvero sodo ed era un buon lavoratore. Non so proprio come fare a dirlo ai suoi genitori. Coprite sempre le aperture con un tavolato oppure costruite un parapetto. Molti sono quelli che si fanno male in cantiere edili. Ecco perché le istituzioni in collaborazione con le parti sociali, imprenditori, sindacati, hanno dato vita e stanno portando avanti da oltre un anno un piano per ridurre gli infortuni nel settore dell'edilizia. Non solo dal punto di vista della vigilanza, quindi della repressione delle situazioni non a norma, ma anche tutto un ordine di interventi che sono di assistenza alle imprese, di formazione dei lavoratori e degli addetti, di comunicazione del fatto che bisogna intervenire in questo settore aumentando la professionalità di tutti quanti gli addetti per ridurre in maniera decisa gli infortuni in edilizia. Un uomo è morto precipitando dal lucernaio di una casa in costruzione a Forlì. L'incidente è accaduto poco dopo le 8 di questa mattina, all'inizio della giornata di lavoro. Si chiamava Marino Matulli, 50 anni, forlivese. L'uomo, dipendente della cooperativa Arte Muraria, impegnata per conto della cooperativa Edile Forlivese, nella realizzazione di 10 villette a schiera alla periferia della città, aveva il ruolo di capo cantiere, nessuno ha assistito alla tragica caduta dopo che Matulli era salito sul tetto della casa in costruzione. Quando non ha risposto ai richiami dei colleghi, questi sono saliti sin nel sottotetto, facendo la tragica scoperta. Matulli è caduto nel vano di uno dei lucernari in corso di completamento sulla copertura. Un volo, fra altezza del tetto e del sottostante vano, di circa 4 metri e mezzo, ha picchiato violentemente il capo, rimanendo ucciso sul colpo. Inutile perciò ogni soccorso. Prima di procedere all'esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve sempre essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli addetti e dei materiali di impiego. Nel caso in cui tale resistenza sia dubbia, devono essere adottati i necessari apprestamenti per garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, di tavole di ripartizione del carico, sottopalchi e impalcati di sicurezza, cinture di sicurezza. Non si deve mai accedere in zone pericolose, neppure per un tempo brevissimo, senza protezioni. Le tavole di ripartizione del carico devono essere posate in modo da consentire di lavorare agevolmente, estendendo cioè la zona protetta ad un'area superiore di quella lavorativa. Gli impalcati di sicurezza devono essere collocati il più vicino possibile sotto il piano di lavoro e in nessun punto tale distanza deve superare i due metri. Nella nostra esperienza lavorativa di vigilanza negli ambienti di lavoro, in particolare in edilizia, abbiamo avuto diversi casi di infortuni sul lavoro per caduta di lavoratori da sprofondamento di coperture in cementa amianto, proprio perché nella valutazione dei rischi a monte il datore di lavoro spesso non prende adeguati provvedimenti a evitare questo rischio. Ad esempio, basterebbero dei piccoli accorgimenti come dei piani di distribuzione del carico e delle cinture di sicurezza. È caduto nello stretto spazio fra due strutture portanti del tetto della bocciofila di San Lazzaro nelle porte di Bologna. Fabrizio Vighini, 35 anni, mantovano, lavorava alla coibentazione di quel tetto dal quale gli operai della sua ditta, la Coint di Castenaso, avevano già tolto tutto l'amianto. Il tetto era a nudo e tutti i camminamenti per gli operai erano stati fissati. Forse Vighini è scivolato ha messo un piede in fallo ed è piombato rovinosamente a terra dall'altezza di alcuni metri sfondando il controsurfrutto dei campi da bocce. L'operai è stato trasportato in gravissime condizioni al Maggiore di Bologna dove è morto dopo poche ore. In Italia le cadute dall'alto sono una delle cause maggiori per gli infortuni mortali. Tra queste, la manutenzione dei tetti e dei solai sono tra le cause più rilevanti. Recentemente ci sono stati diversi infortuni mortali di lavoratori dipendenti o di artigiani dovuti appunto di sfondamento durante la manutenzione dei tetti in amianto. Ci sono attrezzature come ad esempio i cestelli elevatori che possono essere tranquillamente utilizzati. Uno dei maggiori rischi delle lavorazioni sui tetti è proprio quello dello spessore delle lastre che non garantiscono mai essendo questi tipi di edifici ad uso industriale hanno delle coperture abbastanza esigue non garantiscono il peso quindi dell'operatore che va a effettuare le lavorazioni previste. In questo caso specifico vediamo che c'è addirittura una parte del tetto che è in plexiglass ed è uno dei maggiori rischi che solitamente troviamo nelle coperture dei capannoni ad uso industriale. Vi facciamo vedere come in questo caso gli operatori lavorano sempre su un idoneo supporto che si creano quindi volta per volta in corrispondenza della loro lavorazione. Qui poggiamo la lastra in questo caso e quindi come vediamo gli operatori sono sempre in maniera stabile su un posto si fissa come vedete sempre agganciati su due linee vita la questa di sinistra e l'operatore di destra sull'altra e successivamente provvediamo a quindi a spostare il nostro supporto di lavorazione e quindi ad avanzare con i lavori sempre con gli operatori in assoluta sicurezza. Qua è d'obbligo usare dispositivi di protezione individuale è un campo minato e io che pensavo di essere su un tetto. Bene grazie a tutti voi che ci avete ascoltato vi diamo appuntamento alla prossima puntata passato e vi diamo appuntamento a e qui è che buon vi 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 Grazie a tutti